Musica Forse un'intimidazione si indaga ad Oriolo sul ritrovamento di una bombola piena di gas al comune, un avvertimento per gli amministratori. Ora vi portiamo a Oriolo, il paese del Cosentino, scioccato da quello che per gli inquirenti potrebbe essere un atto intimidatorio. Una bombola ritrovata davanti al portone del municipio. Ci racconta di più Ilaria Raffaele. Io non ho avuto paura, però dopo mi è venuta la paura. Quando ho visto che ho pensato non era una cosa buona. Ho visto questa bomba e pensavo che fosse qualche dipendente socialmente o altro. Poi l'ho preso e poi ho pensato che abbiamo chiamato subito i carabinieri. C'era soltanto la bombola vicino alla maniglia e basta. L'hanno trovata due operai la bombola. Era appoggiata all'ingresso del comune di Oriolo, piena. Una bravata per il sindaco. È la prima volta che qui accade una cosa del genere, dice il primo cittadino. Oriolo è un paese tranquillo. Io ho messo anche un'azienda qua a Oriolo, altrimenti non sarei venuto da Venezia a venire a mettere un'azienda qua 15 anni fa. Una certa preoccupazione c'è, però pensiamo che sia una bravata. Stiamo lavorando serenamente da due anni. Abbiamo avuto un sacco di problemi nel comune, nella viabilità, le frane, eccetera, però abbiamo fatto il nostro dovere. Ma i carabinieri indagano, non escludono che si tratti di un atto intimidatorio, forse collegabile ad altri eventi. 300 piante di ulivo tagliate nella tenuta dell'ex vicesindaco Nicola Gialdino, che aveva appoggiato la lista con cui due anni fa aveva vinto le elezioni l'attuale sindaco. E poi i sacchetti di spazzatura e le pisce lasciate davanti al portone del municipio. Ma per i dipendenti dell'amministrazione sono solo ragazzate. Non si è mai verificato cosa del genere in questo paese, quindi penso anch'io che sia una bravata. Sarà stato qualcuno che stanotte non aveva niente da fare. Grazie a tutti.